Senta un po', se io le dico Mose, lei a che cosa pensa? Magnaria. È stato tutto un magna magna? Ecco, in Italia siamo. Non l'aspettava? Tutto, ma è tutto così, in Italia, Italia. È uno scandalo quello che è successo, il nostro sindaco fa vergognare tutti quanti e basta, e anche tutto quello che ci gira intorno è solo che è una vergogna. Ci vergogniamo di essere cittadini di Venezia. Siamo qua tutti quanti a crisi di qua, a crisi di là, e dopo il nostro sindaco viene a rubarci i soldi. Non mi sembra proprio giusto. Quindi se io dico Mose, lei risponde? Porto, ladri. Quanto si sente lei colpito da questa vicenda? Abbastanza, perché faccio parte del PDH e conoscevo un po' diverse persone, da Marchese, da tutta quella gente lì. Sono rimasto veramente colpito forte, però sulle grandi opere c'è sempre questo discorso. Tutti che prendono soldi, e così... È un problema culturale italiano? Forse sì. La vicenda del Mose? Un suo commento su tutto quello che è successo. Boh, a me sembra una gran porcheria quello che hanno fatto, proprio una grande porcheria. Però ormai siamo abituati, sono tutti corrotti, sono tutti indagati, è vero? Non c'è ne uno che sia onesto. A chi si deve credere, arrivati a questo punto? A chi si deve credere? Destra, sinistra, centro? Sono tutti uguali. Con grande dolore e vergogna. C'è proprio, stamattina l'ho messo su Facebook, che mi vergogno, perché sono anni che tutti mettono Salvate Venezia, l'urlo di Venezia, gli ultimi veri veneziani, invece il disastro era in casa. E non è possibile che nessuno vedesse. Penso che fosse per pigrizia o per etichetta. Cioè la sinistra è buona e non ruba, la destra è fascista. Invece qua non c'è più sinistra, non c'è più destra. Ci sono persone per bene e i mascalzoni. Uno scandalo enorme, più di un miliardo di tangenti. Cosa vuole che lei risponda? Dolore? No, disgusto, sinceramente. Poi stavo tanto con... Io voto Movimento 5 Stelle, a maggior ragione questo tipo di tematiche ci sono care. Come si fa a fare le grandi opere in Italia allora? Questa è una bella idea. Una seria legge sulla corruzione, credo sia ormai indispensabile. E poi una migliore scelta di quelli che sono i candidati politici che mandiamo in Parlamento. Guardi, nel 92 si vergognavano almeno quando andavano a confessare. Adesso non si vergognano neanche più. Questo lo trovo un cambio generazionale, non lo so, un nuovo modo di discutere tangenti. Cioè adesso sono tranquilli, si fanno, patteggiano quattro mesi, ritornano in comune e con una faccia cantida dicono il partito mi ha abbandonato. E beh, i commenti sono fondamentalmente che lo sapevano tutti. Quindi io non sono stupito e credo che mi stupisco che siano tutti stupiti da questa cosa qua. Mi stupisco che il PD abbia preso questa posizione e quindi mi auguro semplicemente che paghino. Si sta male perché in una realtà come Venezia, che da tempo si sente di dover proteggere, di dover tutelare, pensare che le persone preposte a questo cadano nella corruzione, nel malaffare, eccetera, ti crea uno sconforto enorme. Ecco, abbiamo sentito i cittadini di Venezia e poi torneremo ancora a sentirli nel corso della puntata. Politici chiamati in causa dai cittadini, ovviamente, che si vergognano, che si sentono traditi dai loro rappresentanti e dalla magistratura che sta indagando. Sentiamo intanto uno di questi politici, Beppe Caccia, che è consigliere comunale di Venezia, della lista Orsoni. Vediamo cosa ha detto ai microfoni di Antonella Manna. Senso di sanchezza, delusione tanta. Venezia e i veneziani, quelli doc, quelli che ancora vivono in laguna, dicono che scandalo, che brutta cosa. Venezia non doveva essere convolta da questo scandalo. Nessuno se lo aspettava davvero. Ma io dico anche finalmente perché alcuni, non tantissimi, da almeno vent'anni denunciamo che dietro la concessione unica, al Consorzio Venezia Nuova, dietro incredibili consensi trasversali a una grande opera inutile e devastante come il Mose, ci doveva essere dell'altro. Non era spiegabile tutti questi silenzi, non era spiegabile tutti questi assensi. e quindi avevamo da tempo denunciato il fatto che si fosse costruito un sistema politico-affaristico che era finalizzato a far passare a tutti i costi questo progetto. Che si trattasse di un sistema criminale così organizzato come sta apparendo dall'inchiesta della magistratura, francamente andava anche al di là della nostra immaginazione. Il problema è oggi non fermarsi a questo livello, se si denunciano soltanto le mele marce ma non si sradica l'albero, cioè non si smonta pezzo per pezzo questo sistema, il che vuol dire cancellare la concessione unica, quindi restituire a regole trasparenti, a procedure pubbliche i lavori per la salvaguardia di Venezia, vuol dire sciogliere il Consorzio Venezia Nuova, vuol dire restituire i poteri del magistrato alle acque e alla città. Bene, se non si fa questo il sistema rimarrà intatto. Con la nostra inviata ha intervistato anche Gianfranco Bettina, assessore all'ambiente del Comune di Venezia che da tempo denunciava che qualcosa non andava per il verso giusto nella realizzazione del MOSI e anche nella stessa approvazione del progetto Aborigine. Sentiamo cosa ha detto. Passano i giorni e l'inchiesta si ramifica sempre di più, i nomi aumentano di coloro che sono coinvolti. Sembra quasi che il MOSI sia stato il bancomat che poteva garantire denaro a tantissimi soggetti diversi. Dopo tutto quello che è successo e dopo tutto quello che accadrà, cosa resta di Venezia, cosa resta ai veneziani? Intanto speriamo che l'indagine vada ancora più in profondità e in estensione perché il sistema costruito dal Consorzio Venezia Nuova per sostenere il progetto del MOSE e poi la realizzazione dell'opera, per promuoverla e per farne anche il centro di un sistema di potere oltre che di un affare gigantesco, è stato appunto, è tuttora così vasto che c'è da augurarsi che questa benvenuta, finalmente ben arrivata, indagine della magistratura colpisca davvero tutto ciò che deve colpire. Dopodiché ciò che resterà sarà una Venezia liberata da una soffocante rete di poteri, di corruzione, di complicità di cui lo strumento tangente è, come ha detto uno dei principali imputati, solo una parte del sistema perché era un sistema che anche al di là dei soldi dati di nascosto, dati in nero, le tangenti, le mazzette, eccetera si alimentava di fondi distribuiti anche in modo, fra virgolette, lecito, tra consulenze, perizie, assunzioni che ingenerava un potere di condizionamento e anche di influenza al di fuori di ogni proporzione. Ad un certo punto sembra che i veneziani abbiano cominciato realmente a credere che il MOSE potesse salvare la città quello che vedono adesso sono solo delle dighe arrugginite e vecchie. Bisogna davvero finirla, quest'opera, Bettin? Sì, ma chi l'ha detto che i veneziani ci hanno creduto? Quest'opera non è mai stata sottoposta. Per esempio il Consiglio Comunale non ha mai votato a favore di quest'opera. Anzi, gli unici atti che ha fatto sono contrari all'opera. Il solo voto espresso in Comitatone, cioè il Comitato di Ministri e di altre istituzioni, tra cui il Comune, che infine ha dato il via libera al MOSE, ha visto il voto contrario del Comune. Perché si tratta di un'opera che per il modo in cui è stata concepita non realizza quei criteri di sperimentalità, reversibilità, di ridotto impatto ambientale e anche di efficacia che avrebbe dovuto avere. Non è mai stata messa a serio confronto con alternative che sarebbero costate di meno, avrebbero avuto un minore impatto ambientale e per molti, certamente per il Comune, sarebbero risultate più affidabili anche dal punto di vista dell'obiettivo. Il MOSE nasce per fronteggiare il tema dell'acqua alta. Viene concepito e poi progettato negli anni 90, quando le previsioni sull'innalzamento del livello medio del mare erano diverse da quelle di oggi. È pensato per difendere Venezia qualche ora, qualche giorno all'anno. Ma se il sistema deve fronteggiare invece un innalzamento medio più costante, più frequente delle acque, creerà grandissimi problemi. Intanto per la sua capacità reale di tenuta con dighe mobili rispetto alla pressione del mare, ma poi perché non è un sistema che assicuri un ricambio in modo artificiale a quello naturale che verrebbe interrotto tra mare e laguna, che è la vita stessa della laguna. Queste obiezioni che ha fatto il Comune, ma supportato da esperti di fama internazionale, oltre che da propri studi, non sono mai state verificate. Non ha avuto una valutazione di impatto ambientale, anzi l'unica che ha avuto è stata negativa, non c'è stata nessuna gara, né nazionale né europea. Quindi è un'opera che è nata con criteri veramente incredibili, per cui prima ce ne liberiamo e meglio è. E ciò che resterà sarà una Venezia libera di decidere il proprio destino, anche di decidere cosa fare di quest'opera arrivata a tre quarti del proprio percorso realizzativo e che comunque porrà in ogni caso seri problemi di gestione.